Oggi abbiamo sottoscritto una convenzione importante con l'Agenzia delle Entrate. Secondo questa convenzione, nei prossimi giorni, nel prossimo futuro, tutte le imposte e vase sul territorio della Regione Piemonte verranno accertate e riscosse dall'Agenzia delle Entrate, ma i soldi ricavati rimarranno sul territorio. Fino ad oggi funzionava in questo modo che la riscossione veniva fatta e le risorse venivano collocate in un fondo indistinto a Roma. Poi Roma ci girava questi importi, ma non ci girava mai gli importi precisi e di solito ci girava di meno, naturalmente. Quindi noi oggi avremo, da domani anzi avremo, un sistema che sarà più certo. Noi avremo quello che effettivamente ci spetta e quindi anche di più si calcola un recupero a gettito invariato anche di una cinquantina di milioni e avremo anche dei tempi certi per quanto riguarda la riscossione di questi importi. Diciamo che è un tassello importante in un mosaico di federalismo vero. Noi facciamo proprio una lotta di trincea per assicurarci ogni giorno dei gradi maggiori di autonomia.